Il primo gruppo di corpi sono soprattutto donne, almeno 20. Poi altri 18 corpi, tutti uomini. Qualche metro più avanti, quegli 11 corpi sono bambini. I soldati hanno detto, se non ci date informazioni sui jihadisti, siete terroristi anche voi. Poi hanno aperto il fuoco e si sono lasciati alle spalle, il villaggio di Sorò senza vita. Ancora un video. Chi filma è vivo per un soffio. Il 9 marzo torna sul posto per documentare. Intanto in silenzio gli abitanti hanno scritto nomi, dettagli, quanto possibile per chiedere giustizia. Poi hanno ricoperto i corpi, con la terra fresca. Qui sotto ci sono 39 corpi. Come vedete ci sono scarpe sparse ovunque. Questa invece è una fossa comune, che contiene 51 corpi. Ci sono molte donne e alcune erano anche incinte. Ci sono anche dei bambini. Alcuni piccoli sono stati ritrovati sulla schiena delle loro mamme. Anche qui sono state uccise dalle donne. Saranno una ventina. Dentro una buca scavata dai cercatori d'oro, ora ci sono almeno 60 corpi. Qualche passo in là è subito un altro orrore da contabilizzare. Questa è una fossa comune, con i corpi di 10 bambini. Avevano tutti meno di 15 anni. Stavano giocando quando li hanno colpiti. È una conta estenuante. A un centinaio di metri di distanza, ancora due fosse comuni, altri 31 morti. Nessuno è sopravvissuto. Neanche i due feriti che si sono trascinati in cerca d'aiuto. Gli schizzi di sangue sulle case di fango. In tutto sono otto. Otto fosse comuni. Solo in quello che era il villaggio di Sorò. Siamo in Burkina Faso, Africa nord-occidentale. Siamo a una settantina di chilometri dal Mali. E guardate questa foto satellitare. Questa foto satellitare ci dice che ci sono proprio, guardatele lì segnate, le otto fosse comuni. Questa foto è stata scattata il 15 marzo. e quindi le rilevazioni satellitari sono indiscutibili. Si vedono esattamente le otto fosse comuni, come nel video del sopravvissuto di Sorò. Secondo Human Rights Watch, questa è la prova fondamentale che oltretutto fa il match con decine di testimonianze e ci dice una cosa chiave. Che lì sono state commesse delle atrocità e delle stragi. Perché? Perché il governo sta combattendo l'avanzata dei terroristi e tutto viene travolto da questo combattimento. Buongiorno, buongiorno a Ilaria Allegrozi di Human Rights Watch Sahel. Ilaria, è un piacere averla qui. È una persona che ha vissuto in quelle zone molto a lungo, che le conosce perfettamente. E questa settimana Human Rights Watch ha diffuso al mondo i risultati di quest'inchiesta, che è un'inchiesta durissima, un'inchiesta forse tra le più importanti degli ultimi anni e che raccontano in questo video che avete visto esclusivo in mezz'ora e che raccontano come il Burkina è preso nella morsa tra i terroristi e un governo autoritario che decide di usare qualsiasi mezzo. Esattamente. Quello che è successo nei due villaggi di Sorò e di Nondenni il 25 febbraio scorso forse si rassume molto bene, secondo me, nelle parole che mi sono state dette da uno dei sopravvissuti, cioè che i soldati non hanno avuto pietà perché in effetti hanno sparato a sangue freddo sulla popolazione uccidendo tutti, uomini, donne, bambini, anziani, neonati. Sono entrati nei villaggi, hanno fatto eruzione con mezzi pesanti, hanno busato alle porte, hanno fatto uscire la popolazione. Facciamo un passo indietro. Cos'era successo alle 8 di quella mattina? Alle 8 della mattina la prima ondata è quella dei jihadisti. Arrivano i terroristi islamici che stanno coprendo, che stanno veramente impossessandosi di tutto quel pezzo d'Africa. Esattamente, qui siamo in una zona quasi completamente controllata dai gruppi jihadisti. Poi andiamo a vedere le mappe, ma raccontiamo cosa è successo quella mattina. Quella mattina, verso le 7 del mattino, c'è un attacco ad una base militare nella capitale regionale della provincia, Huayguia. Il Genim, il gruppo di supporto all'islam e musulmani, un gruppo armato legato ad Al-Qaeda, attacca la base militare, uccide circa 14 non militari ma miliziani che collaborano con i militari e poi fugge. I militari vanno all'inseguimento, ma non si fermano ad uccidere o a arrestare i jihadisti, ma ad ammazzare le persone in questi due villaggi. Avete visto quei cumuli di corpi, il cumulo degli uomini, quello delle donne, quello dei bambini e a quel punto iniziano ad ammazzare la gente dei villaggi. Quando voi riuscite ad avere queste prove e denunciate la questione, il governo reagisce immediatamente? Sì, il governo in realtà ha reagito alla pubblicazione del nostro rapporto, un po' negando le accuse e anche con la censura, ma ancora prima il governo reagisce perché con molto coraggio i sopravvissuti e i familiari di alcune vittime decidono di recarsi alla polizia della città di Huayguia e sporgere una denuncia. Decidono di farlo con coraggio e con determinazione ed è forse questa la cosa che mi ha più colpito durante questa inchiesta. Che rappresenta anche un dovere per tutti noi di raccontare. Sì, è un bisogno di giustizia molto forte che deve essere ascoltato. Pensate che in seguito a questo il governo ha sospeso sia la BBC locale che Voice of America adesso per un paio di settimane. Il vostro sito è stato oscurato perché queste immagini non uscissero e io devo dire che mi ha fatto molta impressione vedere nel servizio che avete visto prima l'ombra dell'uomo che sta filmando e non vi nascondo che ci siamo posti il problema di essere certi che non lo si potesse riconoscere da quelle immagini perché voleva dire metterlo ulteriormente in difficoltà. Assolutamente, siamo di fronte ad un governo che non ama le critiche e che anzi sembra preoccuparsi di più di reprimere la dissidenza all'opposizione piuttosto che di avviare indagini sugli abusi di cui il suo esercito è accusato. Quindi i rischi di arresti, di minacce, di intimidazione anche per le fonti di informazioni sono molto elevati. Io vorrei farvi sentire due dei racconti di quella mattina lì e come potete immaginare esattamente per le precauzioni e per la paura che vi stavo raccontando che queste persone possono in qualche modo essere identificate e per loro sarebbe certamente la fine. Ovviamente vedrete un testo graficizzato e una foto generica però sentiamo questo agricoltore, un uomo di 60 anni che era lì quella mattina. Non avevano alcuna pietà, hanno sparato a tutto ciò che si muoveva hanno ucciso uomini, donne e bambini alcuni avevano delle maschere sul viso erano pesantemente armati ho visto un soldato chiedere qualcosa a una donna e poi giustiziarla a bruciapelo. E poi un altro sopravvissuto, a 36 anni, lo hanno ferito alla mano destra ma vuole parlare e quando il contatto di Human Rights Watch arriva a lui decide di raccontare questo pezzo di storia. Abbiamo consegnato i nostri documenti ma hanno iniziato a spararci addosso ed erano proiettili veri mi hanno ferito alla mano destra poi ho visto il sangue che scorreva dal corpo del mio vicino così ne ho preso un po' per mettermelo in testa in modo che i soldati mi credessero morto sono rimasto immobile ero certo che sarebbero tornati a controllare e che per me sarebbe finita ma avevano troppa fretta e per fortuna se ne sono andati.